L'ultima domanda Vai Quando uno ha 5 milioni di follower su TikTok? Che senso da studiare all'università? Dopo il programma appunto è arrivato questo successo Siamo nella parte più figa dell'evento Il giorno della vita fa bene, fa scannardo ma non vuole Fa una sedenti suro Porca vaca che ho preso, però sto dando Il mio motto che è se ci credi vuoi Bello Se lo filmo così Viene una bomba 44 camere panoramiche con spa, massaggi e piscine Situato nel cuore delle Alpi Sono pronti a saltare Nessuno sospetta nulla Volevamo assediarlo Allora noi siamo appena arrivati allo chalet Ci stiamo preparando Come ho detto siamo già vestiti Le riprese stanno cominciando E stiamo aspettando che arrivino gli ospiti Quindi restate sintonizzati Una cosa che nessuno aveva mai usato a fare Prendere in ostaggio ogni membro dello staff Siamo in questa stanza in servizio per realizzare una scena di collettazione Prendere in ostaggio ogni membro dello staff Sono carica e caricherò anche gli altri Signore e signori Avevamo conquistato lo chalet Adesso andiamo nel backstage Qui si stanno preparando tutti Ecco, mentre i fogliettini quelli da dare Li tengono le ragazze all'entrata Sì, sì, i flyer quando arriva Quanti ne abbiamo di questi? Siamo pronti per partire Noi siamo in Roma No, noi non siamo in squadra insieme Mi sentite? Sì Allora deve fare il vlog Dai, che siamo bruttissimi Stiamo per farlo C'è da fare qualche storia se riusciamo Subito Squadra Denver Ok Io ho il bastido delle camere Stavo aspettando ancora qualche oscite che arrivi Beh, degli uomini stanno per essere uccisi Direi di immortalare questo momento brutalissimo La reazione è welcome allo cielo al posto Wow Ciao E mentre noi ci godevamo ogni attrattiva dello chalet Se lo filmo così Vi era una bomba Non dobbiamo essere troppo precisione Per forza Hai ragione, posso? Vai Le cose Si stavano mettendo male Entrambi esatto facciamo video su TikTok e su YouTube Su TikTok quasi 3 milioni e su Instagram 880 mila La compagnia di Happy e Bernard TikTok 3 milioni e su Instagram 640 mila Intanto vi mostro una cosa super speciale Iconici alpaca dello chalet Riusciamo a tirare giù i due alpaca Sì ragazzi l'abbiamo fatta E bro Catturare uno dei nostri Perché molti mi dicono che il lavoro dei social non è proprio il lavoro Ogni giorno dobbiamo pensare a cosa portare di nuovo Ci vuole originalità Ci vogliono sempre idee Devi sempre pensare avanti Cioè non bisogna aspettarsi che pubblichi un video e subito vada virale Se molli non riesci Già anche noi che ci siamo trovati dei momenti dove non ci partivano i video Il mio motto che è se ci credi puoi Esatto Se credi puoi fare qualsiasi cosa Bello La sala dell'attrezzatura con piv E il mio mondo In te sono già stati fatti Siamo pronti a mettere in campo quello che abbiamo già testato Iniziano in backstage Il laser potrà essere interessante da trovare Sarei dove aggiungerla a quelle no E poi riteniamo Gli allestimenti Ok E magari ti fai già una scaletta di foto che sarebbero da fare di real repliche Dopo Stiamo facendo quello che facciamo tutti i giorni Guarda qua quante ne abbiamo seccate Vediamo le magie Vediamo le magie Vediamo l'assedio gli scialetti Guarda che spiccato A voto liquido Un unico mondiale Questa è la bombola L'effetto è super super wow Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo vinto noi, ovviamente, e adesso dobbiamo scattare tutti gli sposti. In un minuto mi hanno chiamato e mi hanno detto bene. Basta salutare, sono Stefania Bellarne. Quest'anno ho partecipato al programma L'Occupo del Secchione e Viceversa. Dopo il programma è arrivato questo successo, se così si può chiamare. L'obiettivo sarebbe diventare attrice cinematografica. È molto grande. Grazie a lei, io sono qui. Allora, io ho sempre amato la casa di carta. Già mi sento che mi chiamo Milano. Come ti chiami? Milano. È Venezia allora. Sì, Venezia. Quindi da Milano e da Venezia siamo pronti alla stanza. Io sono super emozionata di stare il fucile. Raga, super real life. No, proprio così. Mi chiamo Virginia Montemaggi. Faccio la tiktoker influencer e studio giurisprudenza a Roma. Sul tiktok ho 5 milioni e 2. Quando uno ha 5 milioni di followers in tiktok? Se si so a studiare all'università. Cioè i social sono un modo per divertirmi e avere soldi ed essere indipendente in questo momento. Invece per me giurisprudenza c'è il lavoro che farò nel mio futuro. Quello sarà il mio lavoro e poi se i social continueranno magari ben venga. Studiate. Perfetto. 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 un po' di scenduto avete fatto un cartello che potete vai! c'è un cartello ci siamo ragazzi la bottiglia con tutte le firme degli assalitori sancisce il successo del Playground 03 X Destination allo Chalet Alphars X Destination